La Lega Nord di Albino, nella persona del suo segretario Marco Bianchi, vuole fare un po' il punto della situazione su quello che l'amministrazione Terzi ha portato avanti in questi primi otto mesi. A lei la parola. Grazie. Allora, innanzitutto vi ringrazio per essere qui. La Lega Nord, insieme ai propri alleati, dalla lista civica Valle del Luio, alla lista Civicamente Albino, a Forza Italia, crede di aver fatto sicuramente un ottimo lavoro in questi primi otto mesi di amministrazione Terzi, un buon lavoro sul territorio, un buon lavoro per i nostri cittadini. I punti salienti che noi abbiamo voluto raccogliere per presentarli a tutti i nostri cittadini, perché il volantino che io ho in mano andrà in tutte le case degli albinesi, presenta un po' la sintesi di quelli che sono i punti salienti delle cose principali fatte. Quindi la gente ricorda il ponte, la gente ricorda Via Mazzini, ma non abbiamo fatto solo quello. Il nostro programma era ben più diffuso e abbiamo cercato, come promesso ai cittadini, di realizzarlo. E faremo di tutto per portarlo avanti con forza, coraggio e anche con qualche sacrificio, soprattutto magari nostro e non tanto sacrificio da far fare ai nostri cittadini. Quindi ricordo il risparmio sull'indennità ricarica dei nostri amministratori, ancora ridotto al 30%. La maggior presenza degli amministratori, quindi un maggior orario di visite e disponibilità per i nostri cittadini. Maggior controllo e maggiore equità nell'erogazione dei contributi assistenziali. Abbiamo già parlato in una precedente edizione del nuovo regolamento ISEE. Questo è uno dei punti di forza che la Lega ha ottenuto in questi otto mesi. Quindi cosa vuol dire? Non è che noi siamo contro gli immigrati, ma vogliamo che questi siano in regola e che non si parli di autocertificazioni, come prevede la legge. Completare. Abbiamo completato e pagato il nuovo ponte, quindi ripeto pagato anche il nuovo ponte. Abbiamo completato le scuole elementari come in Duno o Desenzano. L'eliminazione della ZTL in via Mazzini. Parentesi. Però il discorso di via Mazzini meriterebbe un approfondimento. Va di visto qualcosa? Il discorso di via Mazzini è un discorso che riprenderemo nel corso dell'anno, appena ci sono le disponibilità economiche, ma è una delle priorità di Albino. Quindi la Lega Nord, i propri amministratori, i propri consiglieri, tutti quanti, sicuramente si faranno carico con il nostro sindaco per ottenere prima possibile la zona 30 e l'isola pedonale. Come? D'accordo, come promesso? Lo ripeto, voglio essere anche magari noioso, ma sicuramente la zona 30 in via Mazzini la faremo. Quindi, per andare oltre, il semaforo lampeggiante del Valle del Luio, che tanti nostri elettori e tanti cittadini della Valle ci hanno sempre chiesto, finalmente è stato fatto. Incremento da 420 a 500 euro come contributo per ogni bambino iscritto alle scuole dell'infanzia paritarie. Il rilancio del progetto Piedibus, progetti che la vecchia amministrazione aveva quasi abbandonato, avevano attivato solo due linee di Piedibus. Il nostro assessore ha fatto ripartire addirittura sei linee di Piedibus, quindi ha incrementato questo servizio per aiutare i nostri albinesi, per aiutare i bambini a recarsi presso le nostre scuole. La cosa più importante, la cosa finale è che anche quest'anno il patto di stabilità è stato raggiunto. Quindi, con enorme soddisfazione, penso che anche tutta l'amministrazione, tutti i cittadini di Albino possano dire abbiamo rispettato il patto di stabilità.